Benvenuti in Patek Philippe. Fondata nel lontano 1839, Patek Philippe è l'ultima manifattura ginevrina indipendente a conduzione familiare. Il loro successo non è solo dovuto alla perfezione dei loro orologi, ma anche alla costante ricerca della perfezione in ogni aspetto del loro lavoro. La filosofia di Patek Philippe si basa su valori che rappresentano l'essenza della loro manifattura e che sono stati tramandati di generazione in generazione. Questa coerenza è il segreto della loro fama e del rispetto che hanno guadagnato tra gli appassionati. La maggior parte dei modelli di Patek Philippe sono stati dei capolavori che hanno fatto la storia dell'orologeria. Uno tra i più iconici è sicuramente il Calatrava, un orologio prodotto nel 1932 che ha lanciato il marchio Patek Philippe. Questo segnatempo è diventato molto popolare grazie al suo design pulito e minimalista, uno stile che in quegli anni fu una rivoluzione. Un'altra icona del marchio è sicuramente il modello Nautilus, un segnatempo realizzato dal designer Gerald Genta. Questo orologio è ancora oggi considerato un tesoro di inestimabile valore per gli appassionati e per i collezionisti di orologi di tutto il mondo. Il Nautilus presenta una lunetta ottagonale dai lati arrotondati, ispirata agli oblò dei transatlantici, come quello del romanzo 20.000 leghe sotto i mari, che diede ispirazione al nome di questo orologio. Il primo Nautilus era caratterizzato da un quadrante in gradinetti blu orizzontali, che rendeva ancora più riconoscibile la sua natura acquatica. Questo modello inizialmente venne prodotto come solo tempo, successivamente negli anni, Patek Philippe lo ha rinnovato aggiungendoci molteplici complicazioni come data, fasi lunari, cronografo, riserva di carica e molte altre. Un orologio Patek Philippe non è solo un oggetto di precisione meccanica, ma un'opera d'arte, un mix di carattere, eleganza e distinzione che attraversa le mode senza mai perdere il suo fascino. Uno stile sobrio e intramontabile che ha dato vita ad autentici classici dell'orologeria. Il fascino estetico degli orologi Patek Philippe è pari solo alla loro perfezione meccanica. Patek Philippe non è solo un investimento per la tua collezione, ma è un investimento per il tuo stile di vita e per la tua anima. Grazie a tutti.